Signori benvenuti su Grand Theft Auto 4 Ho pensato, dato che ho portato GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas Perché non portare direttamente anche Grand Theft Auto 4 Da accompagnare ovviamente con il nostro magico ad Awake Quindi eccoci qui con Grand Theft Auto 4 Io non l'ho mai giocato Cioè praticamente ve l'avevo già spiegata sta cosa Avevo fatto solo un test della grafica ma siccome mi girava di merda Mi ero fermato praticamente al primo giro in auto che si vede nel gioco E non mi ricordo neanche i filmati iniziali né niente Quindi ragazzi se vi piace questa serie e volete supportarla come sempre Buttate il like tattico Sarà una serie lunga Quindi ragazzi mi raccomando Se non la supportate me la faccio per i cazzi miei tranquillamente senza problemi Perché ci dovrò stare dietro parecchio Non so se vedete il contattore di FPS in alto a sinistra che adesso sia buggato Vabbè cerco di eliminarlo dopo Comunque ragazzi iniziamo Devo dire che mi piace già il caricamento alla canzone Che c'è un po' il cattore che figa Che cazzo 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 E' un po' di questo, ma non è così. Ehm... Cazzo, è stato molto lungo. Devi essere venuto prima. Prendi a tutte le ragazze che hai fatto scopo. Un altro paese ha anche donne. Sì, ma solo i locali. Qui abbiamo i bambini, i bambini, i portorici, i aziende, i europei, i canadiensi, i bambini, 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 i bambini. L'amica ha vissato! Che immagine incantevole! Ok, volevo... Volevo... Volevo la conversazione. C'è un paio temporale. La mansione è venuta, cazzo. E' il sogno, seguimi! Non immaginavo... sembrava strano. La villa! Di già! Volevo! 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 Oh, questo è un po' Che schifo... Sì, anche io, guarda. Qua è la mia brandina? Ah no, la sua, mi sa. Ma che schifo di posto! Volevo! Dio santo! Guarda lui! È deluso! S voleto! U 뜻io! paura! Gli Stagnolo con ovvero tu! Quanto è la che suddenly dove si suove? Chao qua come si muove! Forte, la gomma con le大 liärmi protected, con le reflelli che pistole... Quanto vuoi italiano?! Tra tutte le luci con la mia madre! Tra tutte le luci? Tra tutte le luci con la mia madre. Viaggia da tutto nel sudico comando. Sono hairdo! Se scorrato l'opo americano amico. Non se s� ed il limite... Spiegel! Bernardino, perdono Salvato, Badino. Spiagge! Chi è교 A New York! Cazzo di spiaggia Spiaggia il mondo, ma fai bene Ora magari ho questo Cosa c'è? Cosa c'è, cazzo? Cosa c'è? 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 Vousnez No It's not like that I soldi sono fatti! E' stato prima di loro Due cose Ricordi? Durante la guerra Fai alcune cose brutte E le cose brutte succedono La guerra è dove i giovani e i stupiti sono trattati dai vecchi e bambini a maturare l'altro Io ero molto giovane e molto angolo e magari non è una scuola E' di aperitivo ma Non ho capito perché si vede così Puh che schifo Vieni mi incontriamo E' facile Vieni la porta In una parte la parte la parte la parte la parte la diner un blocchio e sottotitolo E poi andiamo all'interno E poi andiamo all'interno E' veramente freddo Abbiamo molti td's e alcuni motori incredibili Dimi un giro! Buono che ti abbia qui, cazzo! Ho qualcosa per te! Oh, d***o! D***o, d***o, d***o! Sì, Vlad, è desiderato! Mi scusami, ok? No, per favore non vieni! Oh, no, no! Oh, no, no! Oh, no! No, no! Ok Che cazzo gli hai preso la visuale? Ha zoomatissimo, non capisco perché Ok Ok, vabbè, facciamo passare il 6 ore Potremmo incontrare Roman, ok Ma non mi piace sta grafica, cazzo! Cioè, io la voglio al massimo E posso permettermelo di metterla al massimo Almeno questo, minchia! Cioè, guardiamo un attimo insieme la grafica, no? Che cazzo è sta roba media? Io voglio metterla più alto Non me la fa mettere Più alto di media non me la fa mettere Puttana, troppo che era Bassissimo, che cazzo! Ma, ok, io direi di uscire Tanto le cose qua le abbiamo fatte, vaffanculo Comunque, è il posto di merda dove vive No, comunque Sta cosa, non so se l'avete notata, ma Appunto, nei filmati Quando cammina, eccetera Non so, fa questo effetto sfumatura strano Bleh Quindi, quella qua doveva aggiustarla Prendiamo, comunque il rivenditore di cibo come le baccherie di addobbe Ok, vabbè, tipo Tipo San Andreas, praticamente Ho bisogno di vita Ho bisogno di vita Oh, Jesus Ma non ha soldi in realtà Gimmi questo Il primo dog di Nico Belli 5 dollari Mi facciamo 20 dollari Peso ne ho 15 No, ho 25 dollari Ok, mi è dato un attimino la luminosità e la saturazione Beh, gli faccio i miei complimenti perché corre come un diavolo Minchia se corre, raga Cioè, a differenza di quello stronzo di... Di CJ, corre veramente un casino, eh Mi piace, Nico Mi piace già Mi piace già Guarda come cazzo corre No, brutta merda Mi sono incastrato nel tuo taxi Idiota Comunque, siamo arrivati da Roman Vediamo che ci dice Romanino Come on, big guy, ha da do some work Get out of here, we don't need jokers Screw you Screw you Baby, when I look into your eyes, it means something I see little Romans, I see little Mallory I see stars, I see angels In my home, we have a say Yeah, we got one, two, three, 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 four, five Jesus, Roman, you fucking idiota How can I take you seriously? Very difficult, I think Hello, Roman Hello, Gis Mallory, this is my cousin I tell you about Nico Nico, this is Mallory, the beautiful girl I tell you about See, not everything I tell you is bullshit I bet most of it was I hope you less full of shit than your cousin over here Thank you This is the woman that I'm going to marry Whatever you say I thought you were going to marry me, baby Hey, Vlad, great You're fucking crazy, man You should lose few pounds Otherwise this beautiful lady is going to lose you I know, I'm a fat prick, what can I do? Pay your debts? I will do, man, we spoke of this No, we didn't speak You spoke Then you say your phone out of batteries You treat me like a bitch Never Treat you like an idiot, not a bitch, huh? I guess it's true The beautiful woman do like the guys with a funny sense of humor Ho ho, I'm laughing I'll get you the money I know, and Roman, tell this fucking yokel here If he doesn't stop staring at me I'll have his head chopped up and put a film of it on the internet Ouch Ah, all good Great Yeah, fantastic Look, say what you like But at least that guy knows how to speak to a lady Ah, beh Yes, he's all charm Come on, Nico, let's go Darling, I... I'll see you later I've got to take my cousin around some more Get him settled Che cazzo Nico, you're driving us to a hardware store on Dillon Street Uh, he peguei un ferro? Pa-ra-ra-ra-pa-paa Va che bella Va che bella I'm doing some home improvements, Roman You're going to build this mansion you tell me about? Ahah ha 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 Oh funny guy We're going to gain money In America You need money to do anything You're taking me to a backroom game Where I'll win all the dollars we need To really see this town città, 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 città! Tu puoi giocare, certo? Questo è doberto, uovo igri. Sono il migliore! Ho giocato tutti i ragazzi che mi giochano! Mi chiamano il genitore! Perché non puoi pagare i nostri dati, se tu metti il pietro? Non è vero, Vladno! Non è vero! Non, sono il genitore, perché sempre giusto, sempre vinto! Entendete? Ci staccio, non è vero! Io spero che i vostri cartoni sia meglio che i vostri nicknami. Il problema è che sto giocando con i soldi che ho dovuto dare a questi... Albanian scumbags. E' spero che loro non vengono, eh? Ha, 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 ha! Abbiamo lonti dopo noi. Romance, questa si lasciava! Dopo me? E non importa in ogni modo! Quando ho giocato questo gioco, ho avuto il pieno di pagare 10 volte! Non è così slobito, e così fa come sloceo! Immagino... Niko, aspettami qui quando ando inizio per pulire! Non voglio fare una rapida! Chissà, ho quasi forgotto! Sto dandovi il mio vecchio telefono, i miei nuovi numeri sono in là! Chiamami se alcuni Albaniani vengono in alcuni pezzi di beigli! Questi sono i ragazzi che ho avuto il pieno! Non lo so! Non lo so! Perchè c'è questo zoom che... Tu e il tuo pò, Roman! Ovechisto, Nicadrugati! Ma raga, ma che cazzo di problemi ha sto gioco? Perchè zoom così? Ma che cazzo... Ma lo vedi? Che zoom... No, raga! Questo l'ho comprato su Steam! Non voglio sentire cazzate! Cioè... Non l'ho scaricato illegalmente o altre cazze! Quindi non capisco perchè c'è questo problema strano che zooma! Ma che cazzo? Oddio... Io ho paura che mi facciano un'agguata del tido... Non lo so... Non lo so... Sì, mi stanno già guardato attorno! Ho già fatto dei 360! Come cazzo rispondo? Ah! È tutto quieto qui, Roman! Tu vengono? Molinte rezzidà! Non ti preoccuparti! Ho trovato tantissimi pezzi, È come se sei un'aggiatta! Miss McCool! Ok... Non so proprio com'è... Ho accettato la chiamata! Potremmo... Premere F! Fosse la soluzione! Aspetta fuori dalla bisacca! Bisca! Bisacca! Bitiota di merda! No, devo sistemare la soluzione! Questa cosa della grafica e... Questa cosa della grafica e... Questa cosa della grafica e... Questa cosa della zina! Dove? Questa cosa della grafica... Oh no... Ehhh... Rodrigo... Ok... Ma sono bravissimo a seminarli! Ah... Davvero? Cazzo! Cazzo! Qua rappresenta i nemici? Non lo sapevo... BAM! Questo cattorcio! Sicuramente... Guardali... Dissimi! Oh! Oh! Belle le collisioni! Mi piacciono! Mi piacciono! Mi piacciono assai... Mi piacciono assai... Aspetta... Cazzo! 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 BAM! O Alla gialletta, ma se oggi, facciamo un'altra missione. Alla gialletta, gialletta! A presto di me! E se torneri a te uccidere, te uccidere! Hai capito? Tu lupi questo? Strona! Cosa hai fatto? Era un'altra cosa? E ora ti uccidere! Guarda questo uccidio! Inoltre! Voi sapere che sto vivendo in un'altra cosa? Cosa? Strona! Cosa? 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 Sì, grazie! Uh... Scusa, ho avuto un po' di problemi all'office. Uh, posso farlo. Nico può farlo. E cosa? Cosa? Ma tu vuoi che io? Ma... Ma tu ti scordi! Buona ragazza! Puoi farmi un favore? Mallory ha bisogno di vivere. Puoi andare a prenderla a la stazione di Subway? Sì... Prendi la cab! Ha una amica con lui, magari qualcuno che puoi date! Cosa! Ma tu guarda questo uccidio! Ma tu guarda questo uccidio! Il mio bel computer! Il mio bel computer! Il tubo catodico quello lì. Mi fa venire... Minchia! Anzi, livello di radiazioni! Ha 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 ha! Un giro stazione metropolitana, perfetto! Madonna! Adesso io dopo questo cazzo di let's play esplorativo! Dovrò andare a spulciare sull'internet! Perché cazzo nei filmati si muove così! Perché cazzo zoom a caso! E poi dovrò andare ad agire nei file di testo! Probabilmente a fare puttanate! Ecco perché non registro mai sul pc! Cazzo! Grazie! Ho sempre problemi dalla minchia! Rafferisco quella che succedono su console! Così almeno su console posso dire... Minchia! Ah no! Ho fatto un gioco di merda! Invece su pc! E di peso da me sto casino! Che palle! Però dai! In linea generale comunque si vede tutto molto bene! Alcune cose non me le spiego! Tipo perché la grafica è a livello medio e non me la fa alzare ad alto! Ma vabbè! Bong! Ciao! Ciao ragazzi! Hey Nico! Grazie per venire! Ho dovuto sapere che Romain avrebbe trovato alcune scuole per non riuscire! Questo è Michele! Hi! Come sei? Io vivo a Rotterdam Hill, su Mohawk Avenue! Dovete dove è? In realtà no! Devo dire no! Ma fortunatamente Nico impara in fretta se già studia per tutta l'ora! Come sei? Come sei? Ti ho bisogno di qualcuno per dimmiare un momento come... Ah così! Michele, come sei? Malorie, stop! Vieni qua ragazzi! Vieni qua ragazzi, sei una singola, sei un adulto! Prendi il numero di Nico! Ehi, vorrei vedere te ancora Nico! Tu sembra come il tipo di più che voglio riusciare! Tu sembra come l'altro che ho vinto dal bordo Nico! Un'anziavo come tu deve avere altre nuove sfere! Vieni la ragazza di nessunque piacere! Ah perchè lei è raffinata? La sta vedendo come una prostituta ha due soldi Ti vuoi divertire perché non ti prendi Michelle? Grazie per il lift Nico Sì, grazie Dami un ringrazio a volte See you soon Michelle Si giusto Bickel Dai possiamo fare un po' di agnello così Possiamo fare l'agnello e lo yogurt e la roba che c'è Cousin, ho lasciato le ragazze L'azienda mi ha dato il suo numero Ma non credo che Mallory piace i miei vestiti E ho solo un posto per te E' su Mohawk in Hall Vai e prendi qualcosa un po' più 21st century Eh ma mi bastano i soldi? No perchè sono tipo 50 dollari eh Non vorrei che... Mi investo ma non posso mangiare Porca troia Mi sembra un lavoro Un lavoro ben pagato Vuoi un lavoro... Dato che siamo a Liberty City Io spero mi paghino come mi pagavano su GTA 3 A botte di 10k A 30k Minch anche a 100k Cazzo Così cazzo Cacchio voglio... Voglio i pagamenti Minch però non su GTA 3 l'avevo già iniziato con la mafia Quei lavori mafiosi e succosi Invece qua... Mamma mia Oh Dio Tutto scontato Tutto... L'Ucraino è scritto Non capisco un cazzo Vabbè questo era lo classico ovviamente Spero che siano ripetiti da 2 doll... Da 2 doll... No vabbè No 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 2 per 99,99 Vabbè che cazzo faccio Cazzo faccio... Svicinate l'oggetto Vabbè lo cambi... Mi cambiiamo il vestito Che cazzo ci posso fare Vabbè Ma fa cagare Sai cosa? Compro questi Guarda Giusto per poter dire Padrone regalati Cacchiera Ai poveri cazzo Sai cosa? Compro questo Guarda Giusto per levarci dal cazzo Mi piace questo Minchia Ma faffan... Vaffanculo Fa cagare sta roba Vabbè io che li lasso le cosino Riprendo le scarpe... Scarponi... Prendiamo le peppine dai Questa vabbè Non si va bene dai Ho fatto tutto vai affanculo Bene Guarda come siamo freschi eh Vabbè poi gli facciamo cambiare il vestito ovviamente accetto Assolutissimamente consigli da voi nei commenti Per carità di dio Hai fatti Vabbè con le ragazze non è che l'ho finita bene nel... San Andreas Però sentite un po' Facciamo così ragazzi Allora io vi lascio così con questa prima parte di aperitivo Mi raccomando supportatela perché vi ripeto è una serie molto lunga probabilmente Già ho guai con la grafica e problemini del cazzo Ste cose mi demoralizzano dal continuare diciamo a registrare Però vi lascio a voi l'ultima parola Quindi ragazzi buttate un commentino Eh guardate chi c'è Parle del diavolo Ciao Perfetto Abbiamo un appuntamento Signori io termino qui la prima parte Spero vi sia piaciuta Spaccate di lickes E noi ci vediamo con la prossima e anche con l'Awake Remastered Ciao a tutti